L'appello ai partiti di tutti è quello ad una leale collaborazione, quindi non soltanto ai partiti della coalizione che mi ha sostenuto, quello di una leale collaborazione senza pregiudiziale ideologica, ma basata soltanto su fatti concreti proposte nell'interesse dei nostri cittadini e cittadine per migliorarne la qualità della vita. Dall'altro lato, a cittadini, da oggi sono al servizio di tutti, dall'inizio è terminata la campagna elettorale, oggi sono il presidente della giunta regionale che lavorerà nell'interesse di tutta la comunità della regione Lazio, non nell'interesse del partito o di una coalizione.